in matte eccolo la beh è bellino anche questo però lui ha detto c'è cascato tre volte ci sarà qualche insidia non segnalata o dici dove sei la scatola eh sì sì ci si sta attenti sempre bello trovare il local come ricordo il nome ma forse non ce l'ha neanche detto sono tipo giusto che anzio tutto un tento tutto un tento e siamo venuti fino a qua faiosi questi sentieri qui migliora sembra ma dice che ci sia grippe lascia qui io serpente avvelenato bello il pezzo lì la radicia ma i cinghiali l'avete perché ve lo lavorano vabbè ce l'aveva detto che era motoso più che c'è un salto oh mamma ah Ah!